Eccoci, come promesso, eccoci qua. Allora, andiamo subito al dunque. Il filo nero delle stragi, vorrei che presentassi tu la prima ospite. Allora, giornalista, scrittrice, ex deputata e membra della Commissione Antimafia, ex Presidente di Libertà e Giustizia, Sandra Bonsanti. Una donna necessaria in questo paese, gliel'ho detto prima nel retrovalco, lo penso davvero. E poi, i lettori del fatto lo conoscono bene per tanti motivi. È stato nel pool del maxiprocesso, è stato procuratore generale a Caltanissetta e a Palermo. Spesso, purtroppo, al centro addirittura di interrogazioni parlamentari e di attacchi, da un anno, è senatore del Movimento 5 Stelle. Lo ringraziamo per essere qui, Roberto Scarpinato. Buonasera, grazie. Il primo dei due moderatori, una delle firme di punta della cronica giudiziaria del Fatto quotidiano, Antonio Massari. Buonasera, Antonio. Buonasera. E allora, se io penso alla definizione i cani da guardia del potere, penso ad Antonio Massari, a Gianni Barbacetto, che poi vedremo dopo, e poi a lui, numero uno, Marco Lillo, il vice direttore del Fatto quotidiano e direttore di Paperfest. Allora, sembra che siano argomenti legati a storie vecchie, in realtà sono talmente ancora tanto da scoprire che è importante continuare a indagarli, anzi forse siamo soltanto all'inizio delle vere scoperte di queste storie, mi riferisco innanzitutto alla strage di Bologna. Strage di Bologna che, secondo la sentenza di primo grado, ha visto la partecipazione della P2 e di Gelli, addirittura come finanziatore di alcuni elementi, tipo Bellini, legati alla destra, diversiva e anche ai servizi segreti. Questa è la prima domanda che vorrei fare a Bonsanti, perché spesso lei è un'esperta di P2, ha scritto anche un libro, Colpevoli, Gelli Andreotti e la P2, Visti da vicino, un libro recentissimo, è una collega che ha affrontato la P2 in tempo reale, in diretta, però noi spesso pensiamo alla P2 ricordandoci di quando vengono scoperti gli elenchi a Castiglione e Fibocchi, siamo nell'81, e meno spesso ci concentriamo, questa è la mia prima domanda, su quando la P2 nasce? Ovviamente non nasce nel 1980 o 81, ha il tempo di radicarsi, ha il tempo di creare relazioni e la domanda che io faccio, la prima domanda che faccio è questa, per legare questo filo nero che ci porta fino al dibattito di oggi, ma quali erano le esigenze, perché nasce, come si crea la rete della P2, perché è una rete che si crea non così all'oscuro dei potentati dell'epoca, insomma Gelli non era, non è che lo si scopre nel 1981, in quel momento, era un personaggio piuttosto conosciuto comunque, quindi quali sono le radici della P2 che poi portano, nelle stragi come la strage di Bologna, a scoprire un ruolo così attivo nell'eversione e nella strategia politica di destabilizzazione o stabilizzazione in altri termini del nostro paese? Purtroppo la P2 nasce contemporaneamente alla nostra Repubblica, noi dobbiamo finalmente, io spero che interverranno gli storici veri che scriveranno la storia di questo paese, perché è così, la P2 rappresenta quella parte nascosta dello Stato che ha fatto degli accordi, ha preso, ha fatto dei patti, ha stretto delle alleanze e lo ha fatto in un modo tale che non c'è stato spazio per molto tempo, non solo per scoprirlo ma per poterne scrivere, per poter raccontare, noi che ci siamo vissuti dentro, diciamo, dentro questo periodo storico. Io tante volte mi chiedo ma come abbiamo fatto a non restare coinvolti, che cos'è che mi ha protetto, me come tanti altri colleghi per bene diciamo, che cos'è che ci ha protetto dal cadere nelle spire di questa cosa veramente pericolosa, cosa ci ha protetto a noi? Secondo me soltanto un senso di ripulsa per tutto ciò che era assolutamente imposto e doveva essere così. Io mi ricordo la prima volta che ho parlato appunto di Andreotti e che mi sembrò strano questo personaggio perché ero stata mandata in Germania a intervistare un gruppo di persone che avevano combinato qualche cosa insomma sul traffico d'armi, era un problema di traffico d'armi e quando tornai a Roma mi fu chiesto da un amico di Andreotti se potessi dargli, se potevo dargli il testo completo dell'intervista perché lui... in quell'attimo io ho capito che qualcuno mi chiedeva una partecipazione a qualche cosa, non so perché e non so dirvi come ma ho risposto solo che tutto quello che avevo da scrivere, l'ho scritto e che quindi non c'era niente da fare e quella cosa secondo me mi ha salvato, quella risposta lì mi ha salvato dal diventare un qualcosa in più che un giornalista, qualcosa di diverso diciamo da giornalista perché se a un certo punto accetti le regole della politica, della cosa, fai un altro mestiere, non sei, non hai più quella tua autonomia che ti consente, che mi ha consentito appunto di passare senza problemi questo periodo così difficile anche occupandomi appunto di jelly cioè della cosa più scottante ma scrivendo sempre tutto la cosa importante è di non tenersi mai niente di nascosto per sé, di raccontare e di non aver paura di raccontare perché raccontare è proprio il nostro mestiere C'è un dettaglio che a me è piaciuto molto leggere sul mestiere e sulle regole del mestiere legate, però ce lo facciamo raccontare perché è un piccolo aneddoto però è simpatico, legate all'archeologia perché? Questa macchia nel mio passato io sono laureata in etruscologia e avevo un insegnante, una professoressa straordinaria che mi diceva sempre quando trovi questo vaso bellissimo eccetera e guardalo una volta e poi mettitelo da parte e poi riguardalo un'altra volta prima di essere sicura che è vero, che non è falso ricordati che questa cosa di non dare mai niente per scontato è fondamentale e te la porterai dietro nella vita in effetti quelle istruzioni sull'etruscologia mi sono servite e quando non ero sicura aspettavo un attimo e quindi dico mi è andata bene ma non voglio vantarmi perché tanti altri colleghi magari anche ingenuamente hanno solamente risposto a quella domanda a cui non dovevano rispondere capito? E poi diventa molto difficile negli anni sapere che tu puoi scrivere qualunque cosa di quella persona, di quella situazione e nessuno può chiederti il conto di qualcosa che non hai fatto, che hai fatto male mi è andata bene, diciamo che mi è andata bene Parlando di stragi e di fili neri Anderotti la parola strage la utilizzava volentieri oppure no? Non l'ha mai addoprata delle volte parlava di disordini anche nei suoi diari che abbiamo scorso anche con Stefania Limiti li abbiamo letti tutti veramente con attenzione e lui la parola strage se citava qualche cosa forse la doprava ma se no parlava di disordini di cose spiacevoli che erano accadute di cose così Anderotti si sa è un personaggio che ancora va raccontato io spero che arrivino degli storici veri a raccontarcelo perché noi siamo dei giornalisti ricordiamocelo ogni tanto ma qui qualcuno un giorno ci dovrà dire chi ha guidato questo paese in tutti questi anni dal dopoguerra oggi anche adesso questa storia andrà scritta da qualcuno quindi abbiamo bisogno di persone che siano in grado di giudicare sapendo tutto quello che ora si sa anche sulla mafia però cercando di raccontare la storia di questo paese forse ai ragazzi a scuola dovremo a un certo punto spiegare che non siamo stati quella cosa così bella democrazia cristiana partito comunista qua partito comunista là partito socialdemocratici repubblicani ma diciamo la verità diciamo veramente cosa è successo quanta gente ha fatto finta di non vedere sapendo oppure cercava di non sapere per non dover fare conti con questa cosa quindi torno alla domanda iniziale tanta gente ha fatto finta di non vedere è quello che le chiedevo all'inizio cioè praticamente la P2 non nasce nel 1980 nasce prima ci sono dei motivi io vorrei che visto che lei ci ha lavorato tanto per tanti anni nella sua vita per cercare di comprendere la P2 cioè quali erano le esigenze in quel momento storico che portano la P2 a diventare la P2 tra l'altro diciamo la P2 è riuscita a esprimere anche un presidente del consiglio negli anni 90 quindi non è stata è ancora importante parlarne oggi un pezzo di storia è molto importante parlarne e conoscerne l'origine e sapere che non è che ci fosse solo la P2 c'erano anche altri strumenti di controllo dell'evoluzione della realtà del paese è una volta che qualcuno ci avrà detto che il nostro paese è stato dalla liberazione in poi è stato guidato da un non so che cosa dire perché ci vuole lo storico cioè da da un gruppo di potere che sapeva benissimo che cosa succedeva e fingeva di non saperlo e ha finto varie volte di non sapere ogni tanto lanciando un grido d'allarme ah ma non so forse stiamo passando un periodo pericoloso forse ecco ma non andando mai al di là di questo no adesso basta io io mi aspetto che qualcuno ci faccia la storia di questo paese noi sappiamo praticamente tutto molto sulle stragi o sospettiamo cose giuste e sappiamo quello che è successo nella cronaca la cronaca è stata fatta da giornalisti bravi è inutile che qui gli citi ma molti di questi ci mancano in questi giorni più che mai ma però allora diteci che paese siamo che paese siamo stati e perché allora io a questo punto diciamo faccio un passaggio che secondo me porta la palla dall'altro lato visto che siamo vicini insomma una commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi questo governo vuole una commissione parlamentare non si nega a nessuno come fai a dir di no eccetera però non vedo non ne vedo eh tanto nell'urgenza nella capacità di portare qualche cosa di nuovo qualcuno dei vecchi ancora circola qualcuno di quelli che sa sono pochi eh si potrebbero non si potrebbero citare su le dita di una mano ma eh non credo che verrà fuori molto se non si comincia a riflettere su cosa è successo su che tipo di paese siamo stati lo vogliamo sapere o vogliamo sempre far finta di che c'è stata una grande democrazia che diceva che si ribellava alla mafia e agli stragisti non è purtroppo non è così non è così diciamolo e impariamolo a scuola anche io almeno ai ragazzi nelle scuole dove vado a raccontare eh un po' di amarezza gliela passo gliela trasmetto però io spero che imparino a giudicare con la loro testa invece con quella di chi gli ha preparato i libri scolastici secondo il vaso di cui parlavamo prima va bene Marco sì io mi rilaccerei proprio a questo discorso delle commissioni parlamentari di inchiesta vorrei prima poi di dare la parola a Roberto Scarpinato e far presente che quello di cui stiamo parlando è qualcosa di molto attuale perché quello che ci attende nella prossima diciamo in questa stagione è proprio questo c'è una serie di attività di indagine da parte di commissioni parlamentari insediati insediate dal centrodestra che tenderanno a riscrivere delle storie che però sono già state scritte da sentenze ora quali sono le storie che vogliono riscrivere sicuramente il titolo di questo dibattito è le stragi il filo nero che lega le stragi si vuole sciogliere questo filo nero questo è il discorso il punto di partenza di chi ha proposto l'insediamento di una commissione sulle stragi è chiaramente quello di riscrivere la storia negando che ci sia del nero dietro quelle stragi questo non si può nascondere è il punto di partenza la seconda cosa che si deve assolutamente negare è che ci sia qualcos'altro oltre la mafia dietro le stragi quelle che vengono dopo quelle del 92 e del 93 quindi non solo cercare di evitare di parlare di altri mondi diversi dalla Coppola e dalla Lupara che possono avere partecipato alla strage per esempio di Via D'Amelio del 19 luglio del 1992 ma anche quindi recidere a un qualsiasi ragionamento che porti a mondi differenti ma poi l'altra questione importante è quella di in qualche modo evitare che si possano anche porre delle domande sul legame tra quella stagione degli anni 90 delle stragi e le stagioni precedenti quella dell'80 del 70 della fine degli anni 60 e prima ancora perché forse c'è un filo e quindi questo filo è veramente qualcosa di imbarazzante di indicibile e allora le due commissioni che si annunciano una già insediata quella di cui fa parte il senatore Scarpinato c'è la commissione antimafia e l'altra quella da insediare sulle stragi per iscrivere appunto la storia delle stragi secondo me sono due commissioni da seguire con attenzione quindi io sollecito tutti non soltanto noi giornalisti non soltanto i magistrati ma anche i cittadini a seguire con attenzione quello che accadrà perché bisogna reazionare il pensiero critico come non è stato fatto a volte in passato e imparare dal passato dalla storia allora il centrodestra non è la prima volta che utilizza lo strumento delle commissioni parlamentari di inchiesta per riscrivere una storia o per scrivere una storia nuova in maniera diciamolo deviata falsata noi abbiamo degli esempi del passato abbiamo la commissione parlamentare Telecom Serbia chi la ricorda la commissione parlamentare Mitrokin o Impedian che erano delle commissioni piazzate come dei bazooka nei confronti del centro-sinistra che tendevano a raccontare mediante testimonianze acquisizioni e soprattutto mediante diciamo una catena di trasmissione che era molto ben fatta una storia che sostanzialmente doveva magari non essere riscontrata integralmente ma che potesse essere raccontata dai telegiornali voi ricorderete che noi siamo quel paese nel quale c'è stato per settimane mesi sulle prime pagine dei giornali e nell'apertura dei telegiornali una storia che era questa sostanzialmente cioè che le mazzette pagate per l'acquisizione della compagnia telefonica Serba sarebbero transitate mediante dei conti che avevano come intestazione dei nomi tipo Mortad che voi potete immaginare ovviamente se uno vuole mandare dei soldi a Prodi il conto lo intesta Mortad che era appunto Mortadella lo chiamavano in modo scherzoso allora e mi pare Dini Ranoc perché diciamo qualcuno sosteneva che somigliasse a un ranocchio e mi pare Cicogna era Fassino questa storia che sembra buona per far addormentare i bambini veniva raccontata nei telegiornali allora di fronte a quello la commissione Mitrokin è stata un altro caso di questo tipo magari in maniera un po' più sofisticata però per riscrivere anche proprio per esempio la storia della strage di Bologna la famosa pista palestinese fu approfondita rilanciata proprio da un sottocomitato della commissione Mitrokin negli anni in cui il centrodestra era fortissimo anni che somigliano a questi qua perché parliamo degli anni del secondo governo Berlusconi tu giustamente Antonio citavi appunto l'ascesa di Berlusconi purtroppo non solo negli anni 90 il momento di massima forza di Berlusconi è stato appunto proprio in quei primi anni 2000 quando queste due commissioni di inchiesta lavorarono e come lavoravano sentivano testimoni andavano all'estero tutti i telegiornali riprendevano questi commissari in giacca e cravatta con i loro consulenti ricorderete il famoso Scaramella mi pare si chiamasse qualcosa del genere erano anche storie divertenti per noi giornalisti per smontarle io ricordo che appunto all'epoca eravamo ancora all'Espresso con Peter Gomez e lavoravamo andando a cercare i luoghi dove questi signori avrebbero dovuto fare questi trasferimenti di decine e decine di milioni di euro li trovavamo magari in case di periferia abbandonate che soltanto bastava un minimo di riscontro minimo per capire che erano storie campate in aria però storie di cui parlavano i telegiornali perché questo è il punto che non vi deve sfuggire queste sono operazioni spesso mediatiche e perché le operazioni mediatiche funzionino bisogna presidiare i gangli dei media nazionali e come allora oggi questo accade cioè l'informazione televisiva è molto importante per formare l'opinione pubblica e quindi io aspetto al Varco i telegiornali soprattutto quelli della tv pubblica nel modo in cui seguiranno queste commissioni se voi vedete come ha funzionato il meccanismo delle indagini delle commissioni parlamentari di inchiesta in quegli anni e voglio dire anche più di recente con la commissione parlamentare di inchiesta per esempio Pisano che pure ha fatto cose buone la commissione antimafia di Pisano però è interessante vedere per esempio come tutti i risultati della commissione parlamentare antimafia diretta da Pisano tutti quelli che andavano tra virgolette contro i governi sedicenti almeno di sinistra in particolare il governo Ciampi venivano amplificati in maniera fortissima dal telegiornale che se non ricordo male allora era diretto da Augusto Minzolini poi parlamentare e ora di nuovo insomma ora che cosa voglio dire che l'obiettivo spesso di questo tipo di campagna non penso che nessuno potesse immaginare di poter arrestare Romano Prodi dicendo che aveva preso i soldi con un conto che si chiama Mortad perché lo dicevano tre veramente pataccariche a prima vista chiunque avrebbe riconosciuto l'obiettivo non era arrestare nessuno non era nemmeno far partire un'indagine penale probabilmente era semplicemente fare il servizio televisivo far parlare il barista il benzinaio di quella cosa a farlo diventare una vox populi che fosse credibile in qualche modo ora perché ho fatto tutta questa premessa perché siamo all'inizio di una fase storica molto simile quindi io la famosa pista palestinese per la strage di Bologna è stata citata nel da chi dal parlamentare che pare sia deputato Federico Mollicone quando ha deciso di fare la proposta già nel 2021 quando era l'opposizione per la commissione di inchiesta sulle stragi quindi noi sappiamo già dove vogliono arrivare a me interessa soltanto vedere come questa questa manovra verrà seguita dai media nazionali soprattutto quelli pubblici ora perché vi dico che c'è un po' da aver paura perché se torno indietro di vent'anni e guardo l'Italia dell'ora e l'Italia di oggi non sono così convinto che gli anticorpi a queste bagianate che ci raccontavano allora e che ci potrebbero raccontare oggi si siano fortificati io ho la sensazione che gli anticorpi nel sistema di media si siano invece indeboliti e anche temo nella politica allora lo dico non per presunzione ma perché penso che la stampa di quegli anni nei confronti di Silvio Berlusconi in particolare di tutti quelli che erano al governo con lui era molto più vigile molto più sveglia di come vedo oggi la stampa italiana nei confronti del governo Meloni ma aggiungo anche che la cultura media su questi fatti anche per motivi semplicemente di età non di altro dei parlamentari attuali anche di opposizione anche quelli più onesti che conosciamo è molto molto diminuita su questi fatti quindi dall'altro lato io non li sottovaluterei sono paradossalmente più preparati perché sono cose che li riguardano di quanto sono quelli che dovrebbero smontare alcune affermazioni allora da questo punto di vista dopo questa lunga premessa vorrei dare appunto a una persona che sta a cavallo di questi due mondi c'è Roberto Scarpinato come sappiamo l'abbiamo detto prima l'abbiamo presentato è stato un grande magistrato e oggi è membro della commissione parlamentare antimafia quindi lui è una persona che ha visto e voglio dire adesso aggiungo l'ultima cosa questa lunga premessa io non mi fido delle commissioni parlamentari soprattutto se vedo la storia di chi queste commissioni parlamentari va a insediare cioè io posso anche accettare che non tutto quello che ha scritto la magistratura in questi anni del dopoguerra sia impeccabile perché ci sono anche tante sentenze che io non condivido per esempio che penso sia giusto quindi studiare in maniera critica e raccontare però dipende anche chi lo fa cioè se chi lo fa e realmente ha i titoli per mettersi a criticare quello che ha fatto la magistratura e quindi se vedo la storia di chi oggi presiede queste commissioni di chi oggi vuole riscrivere le sentenze della magistratura e vedo la storia dei magistrati io mi fido cento volte di più dei magistrati quindi io penso se dobbiamo rimettere mano alle sentenze sulla strage di Bologna lo devono fare altri magistrati con dei procedimenti che si chiamano revisione per fatti nuovi cioè sono previsti gli strumenti giuridici io mi fido molto di più di una magistratura autonoma indipendente terza di persone assunte per concorso grazie a Dio in Italia ancora regge questa cosa e che non ha un interesse proprio a sostenere la tesi A o B di invece una componente politica che c'ha nel suo non album di famiglia a volte proprio nella sua famiglia persone che sono state coinvolte in questi fatti quindi vorrei dire questo teniamoci le sentenze perché ci sono e lasciamo all'amministratura il tempo e il modo eventualmente di vederle la seconda cosa che volevo dire è che dobbiamo smettere di pensare a questi fatti come fatti vecchi e quindi io quello che vorrei dire a tutti quelli che mi stanno ascoltando da dieci minuti e si domandano ma a noi che abbiamo il problema della benzina a due euro che abbiamo il problema che ci vogliono tagliare le pensioni aspettiamo la legge finanziaria con l'ansia che sicuramente ci aumenteranno qualche altra cosa le bollette da pagare cosa ce ne può fregare oggi di andare a capire se c'è un filo nero che lega la strage del 69 di Piazza Fontana con la strage di Bologna e con quelle che ci sono state dopo sul Rapido 904 e via dicendo ecco io questa domanda penso che la persona più giusta per rispondere è proprio Roberto Scarpinato le stragi e gli omicidi politici non sono una storia del passato sono una storia che attraversa il presente e condiziona il futuro di questo paese sotto vari profili l'accelerazione delle politiche reazionarie e classiste di questa destra di governo che ha determinato una crescita tumultuosa delle disequaglianze dell'ingiustizia sociale non è un fungo che è nato dall'oggi al domani è l'espressione della idiosincrasia storica di questa destra di governo nei confronti della Costituzione dell'assetto dello Stato disegnato da questa Costituzione antifascista dei valori di eguaglianza sanciti da questa Costituzione io credo che se vogliamo capire quello che sta accadendo e quello che potrebbe accadere dobbiamo fare lo sforzo di ricucire il presente al passato e la difficoltà da parte delle persone di capire come il presente sia il figlio del passato nasce da un grande furto di consapevolezza collettiva che è stata consumata dagli apparati culturali espressioni del sistema dei poteri nei confronti dell'opinione pubblica a cui nessuno ha spiegato qual è stato il ruolo nefasto svolto dopo la fine della seconda guerra mondiale dal neofascismo nel condizionare costreggio e cronicidi la storia di questo paese a cui nessuno ha spiegato il ruolo determinante che nel sistema di potere mafioso ha occupato e occupa la borghesia mafiosa uno dei poteri forti della nazione io ricordo che quando in occasione del voto di fiducia al governo Meloni mi alzai e contestai alla Meloni che il suo giuramento di fedeltà alla Costituzione non era credibile tenuto conto che lei continuava a tenere in piedi il sproprio giuramento di fedeltà a personaggi come Pino Rauti uno dei più grandi nemici della Costituzione fondatore di ordine nuovo che è stato l'incubatore la fucina da cui sono usciti gli esecutori delle stragi di Milano delle stragi di Brescia tutti appartenenti a ordine nuovo accertati con sentenza definitiva quanto ha contestato la Meloni che non era credibile il suo giuramento alla Costituzione tenuto conto che nel 2022 il sottosegretario alla cultura del suo partito Federico Mollicone aveva dedicato una giornata di commemorazione al generale Maletti condannato per favoreggiamento degli esecutori della strage di Piazza Fontana a Milano la Meloni non è stata in grado di rispondere e il presidente del senato la russa mi ha spento il microfono nel momento in cui cercando di ricongiungere il presente al passato stavo dicendo che non era credibile un governo che affermava di volere lottare contro la mafia ha tenuto conto che questo governo base i suoi equilibri sui voti di una forza politica forza Italia e cui i fondatori Berlusconi e Dell'Utri hanno avuto rapporti pluridecennali di convivenza con la mafia un battito che ha messo nei ruoli chiavi dello Stato esponenti peggiori della borghesia nazionale antimario il senatore Antonino Dalì messo a fare il sottosegretario agli interni colui che proteggeva gli interessi di Mastèo Messina Denaro e delle cosche più importanti della mafia Nicola Cosentino alto sottosegretario all'economia espressione della camorra napoletana Amedeo Matageni referente dell'entrancate sto parlando di persone tutte condannate con sentenza definitiva per concorso esterno in associazioni mafiose beh il giorno dopo se li erano già dimenticati la storia del neofascismo era scomparso e si continuava a parlare di Mussolini e non è un caso che oggi sia in corso una furiosa guerra refisionistica è stata proposta l'istituzione di una commissione parlamentare sulle stragi neofasciste con lo scopo dichiarato di dimostrare che queste stragi sono state fatte dal terrorismo internazionale e ancor peggio quello che sta accadendo alla commissione parlamentare antimafia che è stata commissariata politicamente la Meloni ha voluto mettere come presidente Chiara Colossimo con lei che era stata fotografata con le mani intrecciate a Luigi Giavardini condannato per la strage di Bologna nonostante i familiari delle vittime della strage di Bologna avessero protestato e quando io Federico Del Rau e altri abbiamo scritto recentemente 70 pagine per chiedere che la commissione parlamentare accerti chi erano le donne che hanno partecipato alla strage di Firenze e di Milano e certamente non erano appartenenti alla mafia di quali interessi erano portatrici chi è che ha aggiunto una carica di esplosivo a via Giorgofili dopo che i mafiosi avevano svolto il loro compito chi è che si è introdotto nella stanza al ministero di Falcone dopo la strage di Capaci ha acceso il computer e ha voluto guardare soltanto i file che lui conservava sull'omicidio Mattarella su Gladio chi è che ha organizzato l'attentato di via Sabine il 2 giugno del 1993 poco prima che passasse il presidente Ciampi e tanti altri ci ha detto di no ha detto che non dobbiamo che la commissione parlamentare non deve fare accertamenti su questi temi la commissione è interessata a sapere quali sono le responsabilità dei magistrati che hanno fatto il processo della trattativa non deve perdere tempo su questi temi una cosa che io ritengo veramente scandalosa ed è chiaro che si devono mettere i bastoni tra le ruote dei magistrati che osano indagare oltre il livello degli esecutori parlamentari è chiaro che bisogna commissariare le commissioni parlamentari perché sotto la cina del passato cova una brace ardente che se dovesse eruttare dal cratere di qualche processo farebbe squagliare il sistema di politico attuale questo sistema si basa su ricatti e su segreti indicibili quando Paolo Bellini condannato per la strage di Bologna nel 1980 è coinvolto vedi caso nelle stragi mafiosi del 92 93 viene intercettato e dice io non posso parlare e dire quello che so perché sono legato da 40 anni da un giuramento un giuramento a chi quando i capi della mafia che sono stati condannati con sentenza definitiva per le stragi come Giuseppe Graviano ed altri si permettono di ricattare pubblicamente vertici del sistema politico è perché sono depositari di segreti scottanti di cui dalla parte sono prigionieri ma dall'altra parte che sono merce di scambio se loro dicessero quello che sanno altro che i discorsi sulla benzina eccetera questo paese si dovrebbe fermare e cominciare a riscrivere la sua storia questo è il motivo del revisionismo è una storia attuale ed è una storia che le persone comuni non possono capire proprio per quel furto di consapevolezza che vi ho detto io cito spesso spesso la frase di onore di Balzac che diceva ci sono due storie la storia ufficiale menzognera quella che ci viene insegnata è la storia segreta dove ci sono le vere cause degli avvenimenti e che è una storia che non si può raccontare ed è vergognosa ed è una storia vergognosa perché chiama in causa la responsabilità di settori portanti di questa classe dirigente italiana nell'esecuzione di stragi e di omicidi politici cioè nell'uso sistematico della violenza dalle origini della Repubblica sino al 92-93 per falsare il gioco politico e il libero gioco democratico in nessun paese come l'Italia si è verificata dall'inizio della Repubblica una sequenza così lunga e ininterrotta di stragi o di omicidi politici la Repubblica è stata tenuta a battesimo da una strage politica mafiosa quella del 1 maggio del 1947 e subito dopo è stata una sequenza ininterrotta la strage di Milano a Piazza Fontana nel 1969 la strage di Gioia Tauro nel 1970 la strage di Peteano nel 1972 la strage della Questura di Milano nel 73 la strage di Piazza della Loggia a Brescia nel 74 del Trenitalicus nel 74 la strage di Bologna nell'80 vedete quante stragi? ma chi se le ricorda queste stragi? non è una somma puramente rettimetica di fatti criminosi c'è un filo rosso che unisce tutte queste stragi tutte queste stragi sono state l'espressione di una guerra che è stata dichiarata dai settori più reazionari della classe dirigente di questo paese nei confronti del nuovo patto sociale sancito dalla costituzione del 1948 del nuovo assetto dello Stato repubblicano questi settori più reazionari delle classi dirigenti sono stati essenzialmente tre i neofascisti cioè quelli che venivano dal fascismo dalla Repubblica di Salò che si sono riciclati in alcuni gangli essenziali dello Stato i servizi segreti le forze di polizia e che hanno dato vita a una serie di formazioni neofasciste ordine nuovo avanguardia nazionale terzo potere che sono state una fucina di formazioni di stragisti che poi hanno fatto le stragi la seconda componente è stata la massoneria di cui la P2 è stato soltanto il paradigma più famoso che è stato la gabbina di regia e la stanza di compensazione dei pezzi più reazionari del potere reale di questo paese gli latifondisti del nord gli agrari del sud la grande industria i grandi armatori che hanno finanziato stragi golpe e la terza componente è stata l'alta mafia la borghesia mafiosa e quindi abbiamo avuto una storia politica che non è quella che ci raccontano nei libri di storia perché la lotta politica si è svolta su due luoghi diversi sulla scena pubblica nel Parlamento nelle manifestazioni di piazza e dietro le quinte si è svolta con le stragi e con i omicidi la prima strage quella di Portella Ginestra è stata eseguita subito dopo un evento particolare dopo che per vent'anni non c'erano state elezioni e nessuno conosceva i rapporti di forza tra le forze politiche in Italia le prime elezioni si svolgono in Sicilia e quello che succede è che l'alleanza tra partito comunista e partito socialista prende il 100% distanziando di 10 punti la democrazia cristiana se quel successo elettorale si fosse replicato nelle elezioni nazionali nel 1948 sarebbero cambiati gli equilibri del paese e quindi la strage dissuasiva di Portella della Ginestra un'anticipazione della strategia dell'attenzione che si svilupperà quando? quando c'è il primo centro-sinistra con Moro ecco che entra in campo il golpe solo organizzato dal generale De Lorenzo quando si approva lo statuto dei lavoratori e le lotte operai conquistano dei diritti ecco che ci sono le strage di Milano di Brescia di Piazza Fontana e via dicendo con gli altri colpi di Stato fino alla liquidazione di Moro la cui uccisione viene gestita sostanzialmente dal comitato di crisi di cui fa parte la P2 e arriviamo alle strage del 92 e del 93 che non sono una storia separata ma sono l'epilogo finale di quella storia perché quel sistema di potere che aveva goduto di protezione è il filo conduttore di tutte queste strage che vi ho detto e che è rivelatore del fatto che sono strage di Stato e la continuità dei depistaggi dalla prima all'ultima strage i depistaggi cominciano con la strage di Piazza Fontana fanno sperire documenti essenziali simulano che il capo della banda che ha fatto la strage è stato ucciso in un conflitto a fuoco invece viene fatto uccidere da un suo complice uccidono il complice Pisciotta che sapeva il nome dei mandanti eccellenti e che si apprestava a rivelarli sono stati condannati con sentenza definitiva il generale Maletti e il capitano Labruna due capi dei servizi segreti per depistaggio della strage di Milano sono stati condannati altri ufficiali dei carabinieri per la strage di Pedeano sono stati condannati altri vertici dei servizi per depistaggio della strage di Bologna la cosa drammatica è che questi stessi depistaggi sono stati replicati per le stragi politico-mafiosi nel 92 e nel 93 la sottrazione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino la sparizione di tutti i documenti che si trovavano nella casa di Riina la creazione di falsi collaboratori di giustizia come Vincenzo Schiarantino per evitare che si alzasse il livello delle indagini l'eliminazione di collaboratori di mafiosi che conoscevano i segreti diventanti politici e si apprestavano a collaborare questa continuità dei depistaggi dal 1947 al 92 e il 93 è la dimostrazione della continuità di un potere malato che dietro le quinte ha continuato a esercitare la violenza con l'omicidio e con le stragi per evitare che ci fosse un avvento delle forze progressiste al potere e la battaglia è in corso non si devono fare queste indagini si devono delegittimare i magistrati che vogliono continuare a andare al di là del livello degli esecutori materiali non si devono fare commissione parlamentare antimafia che osino riaprire questi capitoli dobbiamo raccontare alla gente che le stragi neofasciste sono storie del passato opera di fuori di testa di terroristi isolati e che la mafia è fatta soltanto di personaggi come Rina Provenzano contadini che hanno difficoltà a esprimersi in corretto italiano una vera e propria falsificazione della storia e non solo non è una storia del passato ma è una storia del futuro quando dicono ma non c'è più pericolo oggi che ritorni il fascismo non è più tempo di marcia su Roma ma tutti i politologi hanno evidenziato che dalla caduta del muro di Berlino in poi tutti i regimi in cui c'è stato uno stravolgimento della democrazia in Europa e fuori dell'Europa non sono stati stravolgimenti fatti dai militari con i carri armati sono stati stravolgimenti fatti da leader eletti democraticamente che dopo essere stati eletti hanno iniziato un lento processo di erosione della democrazia come è successo in Ungheria come è successo in Polonia e in che cosa consiste questo processo di erosione in primo luogo nell'abbattere la ingegneria portante dello Stato costituzionale la divisione dei poteri non più un potere diviso legislativo esecutivo e magistratura ma la costruzione di una piramide in cui c'è un uomo solo e una donna solo al comando secondo l'accondizionamento della magistratura che deve essere contotta sotto il controllo del potere politico terzo leggemonia sulla stampa e quindi l'impossibilità di raccontare ai cittadini la storia reale siamo su quella strada in modo più felpato e sofisticato oggi la Meloni ha già il controllo del Parlamento perché le leggi si fanno con i decreti legge siamo arrivati a 4 decreti legge al mese e hanno in mente l'obiettivo finale che è l'obiettivo che i loro progenitori volevano realizzare con le stragi la Repubblica Presidenziale ora che hanno la forza politica la vogliono realizzare per via politica la costruzione di una piramide dove c'è un presidente eletto direttamente dal popolo che è il campo che condiziona il potere isolativo che tramite il ministro della giustizia controlla la magistratura che controlla tutti i sistemi di informazione che è il capo dei servizi segreti quindi abbiamo sostanzialmente le premesse di una destra che ha sempre odiato la Costituzione che non ha mai accettato la divisione dei poteri che ha sempre sognato la Repubblica Presidenziale che è sempre stata contraria al principio dell'eguaglianza perché loro teorizzano che non siamo tutti uguali che nella società c'è una selezione naturale uno dei principali economisti del fascismo Maffio Pantaleone diceva che gli appartenenti alle classi inferiori hanno un reddito minore perché sono meno intelligenti e quindi è colpa loro è la stessa storia che ci raccontano oggi quelli che sono poveri sono poveri perché sono dei falliti perché sono dei divanisti perché se lo meritano quindi c'è una continuità culturale che è straordinaria una continuità culturale nell'odio per la democrazia nell'odio per la Costituzione nell'odio per i principi di eguaglianza oggi la lotta per la democrazia è strettamente inestricabilmente connessa alla lotta per la difesa della Costituzione sino a quando questa Costituzione sarà in vita potranno sfigurare le pareti potranno sfigurare la facciata ma resteranno i muri portanti e sapremo sempre da dove cominciare se toccano questa Costituzione è finita hanno combattuto i figli della resistenza per questa Costituzione oggi qualunque forza progressista prima di tutto deve difendere la Costituzione tutto il resto viene dopo grazie a tutti Il tema che mi interessava molto è, forse perché siamo un giornale che dall'editoriale di fondazione del primo numero del Fatto Quotidiano il 23 settembre 2009 abbiamo stabilito che la difesa della Costituzione era la nostra linea editoriale, questo lo scrisse Antonio Padellaro il 23 settembre 2009 e oggi forse è più attuale di allora, nonostante allora ci fosse Berlusconi al governo, poi come si dice non si sa mai quello che viene dopo, ora da un punto di vista secondo me quello che ha detto Scarpinato è vero, sono le democrazie che lentamente vanno a trasformarsi in qualcosa di diverso, democrature le chiamano adesso per dargli un nome un po' più gentile ma il motto però è sempre lo stesso, qual è il primo pilastro che viene meno? Giustamente la Costituzione, però questo pilastro è sorretto da dei puntelli secondo me che purtroppo ci riguardano, come si diceva appunto il motto del Washington Post la democrazia muore nel buio e questo è quello che volevo chiedere a Sandra Bonsanti. Diciamo Sandra ha rappresentato in modo cristallino la funzione della stampa, peraltro è la persona che ha scritto la carta dei doveri dei giornalisti che è una cosa che tutti i giornalisti dovrebbero leggere e ricordare ogni giorno quando iniziano a scrivere un articolo e che purtroppo viene spesso dimenticato, dove lo dico perché ce l'hanno fatta studiare nelle scuole ma io cerco di ricordarmelo sempre, mentre adesso quello che ti insegnano spesso anche nelle scuole e nelle redazioni è quello che non devi scrivere, cioè non puoi scrivere le cose che ledono la riservatezza, non puoi scrivere le cose che... ma nessuno ti dice quello che invece devi scrivere e la cosa bella della carta dei doveri del giornalista scritta da Sandra Bonsanti è proprio questa, che l'articolo 1 dice che ogni giornalista che si vuole definitare deve ricercare la verità e deve pubblicarla, non può, deve, basterebbe questo per cambiare completamente i giornali italiani. Quello che io vorrei chiedere a Sandra è questo, la difesa della Costituzione si fa partendo dall'articolo 21, si fa partendo dalla difesa della libertà di espressione, se uno dice qual è la differenza tra una democrazia e la dittatura, se io devo semplificare, a me viene in mente quell'articolo là, forse perché faccio giornalista. Oggi, quale deve essere la funzione della stampa in questo momento storico? La funzione è sempre quella, cioè di riuscire a raccontare in maniera assolutamente sincera e diretta quello che noi sappiamo e noi vediamo. Noi sappiamo, perché le nostre fonti di informazione possono essere tante e diverse, però devono essere sempre il massimo che tu puoi avere e devi, se non sei sicuro, devi poterlo dire anche, spiegare, cioè il cittadino ha diritto di sapere che questo che tu stai dicendo può essere vero, ma che forse ci potrebbe anche essere un'altra spiegazione. Non è che il cittadino non deve partecipare, il cittadino deve partecipare come noi che lavoriamo dentro questo mestiere. Ognuno di noi ha un compito e questo lo vedremo ora perché saremo chiamati presto, io penso, a difendere di nuovo la Costituzione, a parire di nuovo come quelli che non vogliono cambiare niente e noi lo dovremo fare, e lo dovremo fare spiegando ogni volta che bisogna farlo e che è fondamentale perché una volta che non avrai più la Costituzione sarà... No, è vero, scarpinato, non possiamo nemmeno pensarla questa cosa. Però saremo presto, io penso, presto, chiamati a fare di nuovo questa battaglia e la faremo con le nostre forze, cercando di essere più leali possibili con le persone, con i cittadini che devono sapere. Poi uno può chiedersi perché in Italia siamo sempre a questo punto e allora la storia è una storia più complessa, è quella a cui io rimandavo all'inizio delle cose che vi ho detto, che è una storia lunga in cui molti hanno tradito, molti hanno tradito, a cominciare appunto da Andreotti, che non so se è qua ora il suo difensore, tanto lo sappiamo da tempo che siamo su strade opposte. Quando mi mandò una persona a dirmi, ma a te che ti si deve fare, ti si deve sparare... Per fortuna c'erano altri colleghi, non ero sola perché nessuno avrebbe mai creduto a questo e io gli risposi, non sarebbe la prima volta che risolvete così i vostri problemi. Sì, ma l'ho detto perché mi sentivo... cioè se fossi stata sola non so cosa avrei fatto, probabilmente mi sarei messa a piangere perché non c'era... l'istinto era quello, ma ero forte perché non ero sola in quello scalone di piazza Santa Maria. Dunque, adesso prepariamoci perché ogni momento è buono perché noi dobbiamo di nuovo difendere la carta, proteggerla e sapere che nessuno ce la può toccare. e fare magari chiedere anche ai vecchi... no, hanno scritto alcuni dei vecchi, però non possiamo più tanto basarci su tutti gli esperti, gli storici che hanno difeso la carta eccetera le altre volte. La carta oggi è nostra, è di noi cittadini e dei giovani, io spero che l'abbiamo insegnato abbastanza ai ragazzi perché sono loro che dovranno a un certo punto prendere la strada e andare a difenderla, ma noi che staremo dietro le fine comunque. E' questo che volevo dire semplicemente rispondendo alla tua sollecitazione rispetto al fatto che la carta ha bisogno sempre di essere difesa. Grazie, io volevo soltanto ricordare, perché è un dovere, lo sento come un dovere, che purtroppo questa difesa della carta avrà un grande difensore in meno che è Domenico De Masi. E quindi dobbiamo essere ancora più forti noi per tenere alto l'impegno che lui, che il professor Domenico De Masi ci ha lasciato e voglio ringraziare tutti per questa partecipazione a questo incontro e ringrazio il senatore Roberto Scarpinato, ringrazio Sandra Bonsanti e Antonio Massari. E grazie a tutti voi. Buona serata. E grazie anche a Marco Lillo. Grazie a tutti voi. Ci sono parole che restituiscono ossigeno ai nostri polmoni. Una piccola comunicazione di servizio. Per chi avesse messo la macchina in divieto di sosta qua subito, diciamo così, all'entrata è pregato di spostarla perché i vigili ci hanno pregato di spostare le macchine. Quindi adesso si svuoterà la platea? Adesso ci sarà il momento del panico. Ci vediamo magari un altro giorno. Era una comunicazione che ci è stata imposta.